Si torna sui banchi di scuola prima campanella per 45.000 studenti della provincia di Peserobino antenne 5G da rimuovere dai residenti di mare e porto la protesta verso il comune calano le esportazioni marchigiane, crolla la farmaceutica, preoccupa il comparto moda effetto capitale della cultura, presenze raddoppiate al museo Ufficine Benelli La VL si presenta e non si nasconde, obiettivo ritorno immediato in serie A Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. Oggi è mercoledì 11 settembre e chiaramente parliamo di scuola perché proprio oggi è stato il primo giorno di scuola per oltre 45.000 studenti della provincia di Peserobino. Noi abbiamo intervistato alcuni delle scuole pesaresi. rivediamo. È un giorno speciale oggi, è il giorno in cui riaprono le scuole, con bambini e bambine che non vedono l'ora di rivedere i compagni di classe o di fare nuove amicizie. Un giorno speciale per loro, così come per i docenti che ritornano dietro le cattedre o i dirigenti scolastici pronti ad un nuovo anno. Un'occasione, quella della giornata inaugurale, dove partecipa anche l'amministrazione comunale, con un vero e proprio tour tra le scuole della città. Ho avuto piacere di fare questo giro perché ho trovato tanto entusiasmo, tanto entusiasmo sia da parte delle persone che lavorano all'interno delle nostre strutture. È bello vedere appunto le persone che non vedono l'ora di riniziare a lavorare per poter stare insieme ai bambini. Noi ce la stiamo mettendo tutta per riuscire anche a creare strutture sempre più accoglienti perché da una parte è importante riuscire a dare il servizio come numeri e anche come qualità, dall'altra parte è importante anche riuscire a mettere a disposizione strutture sempre più sicure ma soprattutto più belle. Non è semplice perché le risorse necessarie sono tante, però l'impegno che abbiamo preso in questi anni è anche quello di riuscire a riqualificare e recuperare ancora di più questi spazi. Devo dire che comunque sono spazi belli, non è che si parte dal nulla o si parte da strutture particolarmente che hanno problemi particolari, ma possiamo migliorare ulteriormente e secondo me è un servizio che dobbiamo continuare a sostenere sia dal punto di vista della quantità di posti che siamo in grado di poter dare alle famiglie ma soprattutto anche della qualità degli spazi che riusciamo a mettere a disposizione. Ho detto che in questi anni non è nostra intenzione ridurre quelle che sono le risorse per le politiche educative, siamo di fronte a un cambiamento e da una parte le esigenze delle famiglie stanno cambiando, dall'altra parte c'è comunque il calo delle nascite. Tutte queste nuove condizioni ci devono portare a ripensare e a mettere in piedi un modello che è sostenibile sia per l'amministrazione dal punto di vista economico ma anche sostenibile per i cittadini, cioè far sì che le famiglie possano trovare lo spazio per i loro figli perché comunque portare i ragazzi all'interno di queste strutture è comunque importante, non solo perché le famiglie devono andare a lavorare e quindi non sanno magari dove poter mettere o comunque chi può ottenere i loro figli ma soprattutto perché è importante dal punto di vista educativo e formativo perché non ci dimentichiamo che l'asilo non è un deposito dei bambini, un asilo è un posto dove i bambini grazie alla qualità degli insegnanti che ci lavorano riesce a crescere in maniera migliore, riesce a confrontarsi con i ragazzi, con i propri amici e si fanno poi quelle amicizie che poi durano per tutta la vita. Il primo giorno di scuola è sempre un giorno emozionante, non solo perché si apre un nuovo capitolo di quella che è la storia scolastica ma anche perché si vive, si percepisce l'emozione delle famiglie, dei docenti, di tutto il personale scolastico e delle ragazze e dei ragazzini che entrano per la prima volta, come abbiamo visto questa mattina, in una scuola nuova. Tante sono le scuole che quest'anno abbiamo recuperato e su cui abbiamo fatto degli interventi importanti. Questa mattina insieme al sindaco e agli altri assessori visiteremo solo alcune di quelle che sono state toccate dagli interventi che grazie al PNRR e grazie anche ai fondi della SIRAM siamo riusciti a recuperare, più quelli che la nuova amministrazione ha messo in campo per efficientare, migliorare la vita all'interno delle scuole. Lo dico spesso, il benessere delle bambine e dei bambini all'interno dell'ambiente scolastico è un fattore importante perché assicura non soltanto uno stare meglio a scuola ma questo stare meglio a scuola significa avere la possibilità di una crescita migliore e di crescere quindi in una maniera più strutturale e che possa portare anche al raggiungimento di obiettivi e alla realizzazione dei sogni. Scuole che riaprono e scuole che restano un cantiere. In questo prossimo servizio allora facciamo il punto sui tanti progetti di edilizia scolastica da completare nella città di Pesaro. Le scuole a Pesaro riaprono ma i lavori continuano. Tutto in accordo con dirigenti e sotto la supervisione dei tecnici affinché si possa garantire la sicurezza e la serenità di un anno scolastico privo di intoppio o di disturbi. Per questo motivo il giro di visite dell'amministrazione comunale è partito proprio dalla scuola Manzoni che nei giorni scorsi era finita al centro di alcune polemiche. Un messaggio chiaro dunque quello che è arrivato dalla sindaco Biancani. Nel giro di questa mattina sto verificando che ci sono scuole nuove. Noi siamo passati da diversi anni fa dove il problema delle scuole era la possibilità di fare piccoli lavori per renderle agibili. Oggi stiamo parlando di demolizione di scuole e realizzazione di scuole nuove. Ovviamente questo grazie al fatto che l'amministrazione precedente è riuscita a reperire molte risorse grazie ai fondi comunitari o statali ma è anche grazie all'amministrazione che ha avuto la forza di partecipare a questi bandi e poi riuscire a prendere le risorse. Per tutto il resto, cioè dove non facciamo strutture nuove perché ovviamente non dappertutto necessario stiamo cercando di rendere e mettere soldi appunto per la manutenzione. Già la prima variazione di bilancio che abbiamo fatto a fine agosto, primi di agosto è stata una variazione improntata quasi esclusivamente con risorse destinate per la messa in sicurezza o per la riqualificazione delle scuole e degli asili. Non abbiamo messo soldi per altro, quindi abbiamo messo i soldi per scuole, asili e impianti sportivi. Almeno quattro edifici scolastici nuovi, cioè nuovi e nuovi fabbricati. Solo la scuola Manzoni parliamo di circa 6 milioni di euro quindi in realtà in questi prossimi anni noi troveremo scuole dove abbiamo speso decine di milioni di euro o per farle nuove o per renderle più sicure. Altro tema che viene poi affrontato è quello degli asili dove il sindaco afferma che l'amministrazione sta lavorando ad un nuovo piano per poter ridurre il numero delle persone in lista d'attesa. Siamo partiti con circa 140 persone in lista l'obiettivo è, ho dato l'obiettivo all'assessore, alla struttura di rifare tutti i conti, di ripensare al servizio il mio obiettivo, non so se ce lo farò è quello che già dall'anno 2025 riuscire a mettere a disposizione più posti perché da una parte dobbiamo andare verso un percorso che porta anche alla statalizzazione di alcuni istituti, di alcune scuole questo ci consentirebbe di liberare risorse e di poter dare più posti anche nei posti rispetto alle scuole comunali. Quindi da una parte dobbiamo verificare che tipo di percorso fare con la statalizzazione dall'altra parte dobbiamo capire che tipo di riorganizzazione all'interno delle scuole comunali fare la gestione, la testa e la regia il percorso educativo e formativo deve rimanere in capo al comune ma il nostro obiettivo deve essere anche quello di riuscire a dare più posti per fare questo dobbiamo rivedere un po' il modello che abbiamo messo in piedi fino ad oggi. Ed ora cambiamo argomento tornano le proteste per le installazioni di maxi antenne di telefonia le ultime erette fra Lungomare e Porto hanno sollevato una raccolta firme di residenti così come dei genitori dei ragazzi che frequentano le due scuole presenti in quella zona. Proteste che ieri sono arrivate ad un confronto col comune vediamo come è andata. Un confronto privato tra amministrazione comunale e alcuni cittadini si è trasformato in un vero e proprio dibattito pubblico e a tratti anche politico così quella che doveva essere una discussione sulle antenne nella zona mare di Pesaro si è trasformata in protesta salvo poi la quiete con alcune mamme che hanno accettato l'invito dell'assessora Conti nel rimandare la questione per parlarne in maniera più chiara e serena tuttavia le domande rimangono. Per quanto mi riguarda come mamma di un bambino che frequenta la nuova scuola di Pesaro quindi in vicinanza delle antenne qui poi ci sono in rappresentanza le mamme anche dell'altra scuola Mascaruzzi i residenti e i commercianti non siamo qui per fare una lotta politica non siamo qui per fare discussioni senza senso ma siamo qui solo perché estremamente preoccupati per la salute dei nostri figli i residenti per la salute dei loro stessi i commercianti idem. Il motivo è di avere chiarimenti e delucidazioni su quelle che sono le procedure con cui queste antenne sono state messe e soprattutto come entreranno in funzione e quali sono i voltmetro che poi andranno a portare insomma ad avere come emissione è anche una problematica che si ha nell'immediato futuro di un aumento di questo voltmetro e vorremmo insomma che il comune prendesse una posizione per quanto è possibile anche per quelle che sono le leggi attuali e si impegnasse a tutelare noi cittadini risposte che dunque vengono rimandate ad ottobre dall'assessora che si dice dispiaciuta nella non averle potute fornire oggi a causa della clima che si era creato in Sala Rossa sono diciamo dispiaciuta perché come di consueto abbiamo subito risposto ai cittadini come poi l'impronta anche da inizio legislatura di questa amministrazione ma come tutti sanno come diciamo assessorato all'ambiente soprattutto per il percorso che riguarda le antenne l'abbiamo fatto dall'anno scorso abbiamo avuto tantissimi incontri pubblici dove spiegare le varie situazioni si trattava questo di un incontro specifico richiesto da in realtà un cittadino in particolare che l'aveva chiesto al sindaco e che poi ha chiesto ovviamente di seguire la situazione che sto seguendo ormai da oltre un anno e mezzo e poi si sono invece presentati anche consiglieri dell'opposizione e la ritengo diciamo una scorrettezza perché se l'incontro doveva essere pubblico con tutte le istituzioni presenti doveva essere allargato a tutta il consiglio comunale e anche eventualmente coinvolgere i commissari della commissione ambiente nella quale poi parleremo di tutto l'iter che riguarda appunto il nuovo regolamento delle antenne e la nuova mappatura che andremo a rivedere per il 2024 ciò nonostante con un gruppo di mamme che era poi quello che voleva avere delle informazioni ed è stato quello maggiormente penalizzato perché non ha potuto avere le informazioni e le delucidazioni che chiedevano che erano specifiche a queste due antenne posizionate al porto che ricordo una c'è dal 2002 l'altra deve ancora entrare in funzione e non rientra nel piano delle antenne che hanno votato in consiglio comunale tutto il consiglio comunale il 19 dicembre del 2023 abbiamo concordato di rifare questo incontro nei termini che erano quelli iniziali come avevo anche già detto pubblicamente Ed ora andiamo a parlare di economia perché con 7 miliardi e 200 milioni di euro l'export marchigiano nel secondo trimestre del 2024 registra un calo rispetto allo scorso anno del 41,3% dati che sono stati forniti oggi dalla Camera di Commercio delle Marche e che risultano fortemente influenzati dal crollo delle esportazioni farmaceutiche relative ad una brusca interruzione di rapporti fra il comparto Ascolano e la Cina farmaceutica che infatti cala dell'82% ma risulta in forte discesa anche l'esportazione nel settore della nautica e dei macchinari per l'agricoltura rispettivamente in calo del 48% e 33% Preoccupa anche un'eccellenza come il comparto moda e calzature che risulta in flessione del 5,7% fra le esportazioni invece in crescita si segnalano quelle relative a componenti per autoveicoli articoli di gomma e prodotti alimentari nelle Marche il maggior crollo di esportazioni è nella provincia scolana con un meno 74% stabile invece la situazione nel Pesarese con un meno 1,3% Il direttore dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino Alberto Carelli risponde alle sollecitazioni del sindaco di Pesaro Andrea Biancani ufficializzando la convocazione per il 1 ottobre della prima conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria territoriale che si svolgerà nell'ospedale di Muraglia Il direttore Carelli attraverso un comunicato stampa riferisce anche che lo scorso 3 settembre abbia provveduto ad inviare al Comune di Pesaro formale invito alla messa a disposizione dei locali per trasferire i pazienti della RSA Tomasello presso la residenza Casa Roverella di Santa Colomba Secondo Carelli ad oggi il Comune non ha fornito alcun riscontro necessario per programmare il trasferimento dei pazienti sebbene il protocollo d'intesa prevede come termine di consegna dei locali quello del 30 settembre 2024 Ed ora cambiamo di nuovo argomento domenica prossima infatti saranno trascorsi due anni dall'alluvione che sconvolse parte delle province di Ancona e Pesaro Urbino argomento che abbiamo affrontato nel telegiornale di ieri con il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini mentre le immagini che vi mostriamo oggi riguardano il Comune di Frontone anch'esso colpito dall'alluvione e anch'esso immerso in una fase di ricostruzione Immagini che si riferiscono ai cantieri al ponte della Foce e al ponte della Torricella che oggi hanno ricevuto il sopraluogo del Vice Commissario per la Ricostruzione Stefano Bavini e del Presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche Michele Maiani in merito a due opere che procedono come da cronoprogramma per ripristinare collegamenti fondamentali per la viabilità dell'entroterra Ed ora nel prossimo servizio andiamo a scoprire la prima biblioteca delle Marche che è specializzata in testi teatrali quella che da questa mattina è aperta a Pesaro negli spazi del teatro La Piccola Ribalta È una piccola biblioteca ma di alta specializzazione perché è una biblioteca dedicata quasi esclusivamente a testi teatrali non solo italiani ma un po' di tutta la storia del teatro è una biblioteca ricchissima di particolarità prima di tutto perché abbiamo trovato all'interno dediche da parte dei donatori ninchi per esempio quindi nomi di un certo rilievo perché è costituita dalla stratificazione di fondi donati alla Piccola Ribalta come per esempio il Fondo Sanchini ed è ricchissima di ex libris di annotazioni da parte di chi ha utilizzato i testi della biblioteca per poi effettuare delle rappresentazioni teatrali e quindi delinea un po' la storia del teatro italiano e non solo ma anche la storia a livello locale del lavoro ormai quasi di 80 anni dell'associazione Piccola Ribalta è un unicum perché non esiste una biblioteca teatrale nel nostro territorio è la prima dotata di materiale quindi di alta specializzazione sia a livello monografico che seriale perché ha una buona dotazione di riviste che sono tra l'altro aperte quindi sono ancora in abbonamento le riviste come sappiamo nel settore sono del materiale che è ricco perché aggiornato e perché a livello tecnico permette anche per chi poi ne usufruisce di avere la possibilità di consultare materiale utilissimo sia per il teatro che per le rappresentazioni teatrali abbiamo iniziato una serie di letture e ci saranno altri appuntamenti per tutto il mese di settembre sono appuntamenti che trattano autori presi direttamente dalla nostra biblioteca sono tutti appuntamenti ad ingresso gratuito quindi sono liberi alle ore 18.30 il venerdì mentre le domeniche sono dedicati ai bambini l'appuntamento invece è alle 17.30 sono letture fatte dai nostri attori e tratteranno appunto diversi argomenti questa biblioteca è molto importante per noi perché è la prima nella regione Marche che tratta appunto l'argomento dei libri insomma dei testi teatrali questo è un primo tassello oggi inizia per poi costruire un grandissimo progetto per questa libreria che contiene 1700 testi teatrali e oltre 2000 riviste sempre specialistiche per il mondo del teatro da 14 anni ogni mese di settembre i cultori della moto Benelli si ritrovano a Pesaro per la cosiddetta Benelli Week settimana del Leoncino che arriva dopo un 2024 di impennata di numeri nelle visite al Museo Benelli il popolo del Leoncino è pronto a rimettersi in sella alla scoperta delle Marche dal 16 settembre riparte la Benelli Week ovvero la settimana di culto per amanti e possessori di moto Benelli che da tutta Europa confluiscono a Pesaro in quella che nacque nel 2011 come occasione per festeggiare il centenario della casa motoristica per poi diventare un appuntamento fisso da 14 anni ormai è un programma ben consolidato tutti arrivano qui in motocicletta e tutti ogni giorno vogliono fare un giro in motocicletta proprio nel ricordo della Benelli li troveremo qui nel parcheggio del Museo Benelli per partire per un giro turistico ovviamente tutti concentrati nella nostra regione quindi sono giri a Margherita partiremo con il classico dei giri in moto che è il giro dei due passi quindi tra Bari e Seriola poi andremo su al Conero il secondo giorno martedì il terzo giorno andremo a visitare i murales di Cacciano vicino a Fabriano il quarto giorno invece la dedicheremo lascieremo da una parte le motociclette per salire in barca perché faremo proprio un'escursione in barca qui sotto il colle San Bartolo ovviamente poi l'altro giorno il venerdì riprendiamo le motociclette transiteremo sulle strade che portano fino a Urbino mentre poi l'ultimo giorno dedicheremo il sabato all'escursione fino al Monte Carpegna quindi sono tutti i giri pensati per il nostro territorio concluderemo diciamo in bellezza il solito raduno a calendario Asi che si chiama la musica della moto quel giorno sarà aperto solamente alle motociclette costruite prima del 1965 sarà dedicato appunto alla storia motociclistica mondiale dei primi 60 anni del 1900 chiuderemo in bellezza con il classico rombo di tuono perché saranno le benelli da competizione che appartengono alla collezione di Luciano Battisti a comandare diciamo la manifestazione appunto con l'ascensione di queste straordinarie motociclette ad enfatizzare il valore della Benelli Week quest'anno dedicata alla memoria di Silvio Grassetti anche comune regione Marche terra di piloti e motori e l'immancabile presenza del presidente del club Benelli dell'isola di Mann una Benelli Week che nell'ambito del progetto la musica della moto prevede anche un concerto evento dal titolo Over and Over Again un viaggio con Franco Battiato con una performance degli stessi storici musicisti dell'artista siciliano concerto in programma all'auditorio in Scavolini venerdì 20 settembre intanto è tangibile l'effetto capitale della cultura sulla fluenza stagionale al museo Benelli grazie sicuramente grazie sicuramente a peso capitale della cultura abbiamo avuto un incremento di visitatori incredibili siamo veramente molto molto felici perché in sei mesi abbiamo avuto già il numero che erano stati l'anno scorso a visitare il museo Benelli in un anno quindi un risultato veramente incredibile incredibile è il fatto che sono tantissimi coloro i quali non solo vengono dall'Italia ma dall'estero a visitare il museo Benelli la fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro conferma anche per il 2024 il proprio impegno verso le persone malate di tumore assistite da Ant come nel 2023 il contributo erogato dall'ente è stato di 10.000 euro per appoggiare l'Ant pesarese nella sua missione di portare al domicilio di chi ne ha bisogno le cure necessarie ad affrontare in piena dignità la malattia e le ultime fasi di vita venerdì 13 settembre alle ore 16 e 30 nella sala Pierangeli della provincia sarà presentata la trilogia di fiabe sugli animali della gola del furlo un volume scritto da Giovanna Renzini per un'iniziativa che intende ricordare la scrittrice giornalista della provincia prematuramente scomparsa lo scorso marzo e sempre venerdì 13 settembre alle ore 18 nel Belvedere di Pozzo Alto Pesaro capitale della cultura presenta l'undicesimo episodio del progetto dalle sculture nella città all'arte delle comunità a cura di Marcello Smarelli progetto che coinvolge 12 quartieri di Pesaro sviluppando il tema del rapporto tra arte e spazio pubblico nell'occasione di venerdì sarà presentato Giancait realizzazione di un grande aquilone fatto volare in un'azione collettiva a raccontare la performance di volo a Borgo Santa Maria è stata installata una gigantografia nella piazza del Parco dei Tigli un bus panoramico attrezzato a ristorante itinerante ha attraversato oggi le strade di Fano città che è stata scelta come tappa marchigiana del tour di Aromi d'Italia si tratta di un progetto promosso dal Ministero del Turismo che attraverso questo bus celebra in ogni regione uno dei suoi piatti tipici in questo caso gli chef dell'Unione Cuochi Marche hanno proposto la degustazione del brodetto di pesce piatto principe della tradizione culinaria fanese e chiudiamo questa edizione chiaramente parlando di sport perché ieri sera la piazza del popolo di Pesaro è stata la piazza del popolo della VL col tifo bianco-rosso a corso in centro storico per la presentazione della squadra pronta ad affrontare il campionato di serie A2 con ambizioni massime la biosfera si illumina con il logo della carpegna prosciutto basket pesaro e piazza del popolo diventa la piazza del popolo della VL che invade il centro storico alzando già i volumi del tifo per la presentazione della squadra bianco-rossa che riparte dalla serie A2 senza nascondersi dai giocatori al neopresidente Andrea Valli motivazioni massime per un campionato in cui puntare all'immediata risalita nella massima serie siamo tutti qui per questo obiettivo qui alla fine quando abbiamo firmato tutti per Pesaro sapevamo già dove finivamo in che città in che tipo di ambiente quindi il progetto è questo quindi tutti ci dobbiamo combattere dobbiamo cercare di raggiungere raggiungere l'obiettivo che comunque è salire in serie A è questo la nostra avventura per tornare in A1 inizia questa sera e quindi da questa sera tutti insieme uniti dobbiamo avere questo obiettivo tornare presto in A1 dove merita di stare una VL che è 78 anni ha 78 anni di storia siamo una squadra nuova ancora dobbiamo trovare i nostri equilibri per poi cercare di avere dei punti di forza dei punti di come dire delle certezze su cui partire ancora le stiamo cercando ci metteremo ancora un po' di tempo bisogna avere pazienza bisogna essere bravi nel cercare di essere più coesi possibili e ci scopriremo ci stiamo scoprendo noi giorno per giorno punti di forza adesso sicuramente secondo me la fisicità siamo una squadra a mio parere fisica che si può giocare le sue carte sotto questo aspetto qui andare a giocare anche in post basso con quasi tutti i componenti della squadra perché siamo una squadra secondo me grossa e quindi questo poi sicuramente ce ne sono altri che riusciremo ad esprimere tra un po' di mesi adesso è ancora un po' tutto acerbo dobbiamo ancora formarci bene per capire forse l'insidia maggiore come dire è avere della resilienza ecco della resistenza alla fatica a rimanere uniti a non lasciare niente quando quando cominciamo a sentire il peso della fatica perché un campionato così impegnativo oggettivamente non si è mai visto non abbiamo avuto problemi quest'anno con le sponsorizzazioni praticamente siamo riusciti a mantenere la maggior parte dei dei consorziati e anche degli sponsor praticamente ce ne sono più di cento e questo ha garantito una solidità nella già nella partenza della formazione della squadra il pubblico serve perché deve essere come si dice il sesto uomo noi in casa dobbiamo vincere ogni partita dobbiamo lottare ogni partita se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi per cui la presenza del pubblico è indispensabile e credo che il pubblico come vediamo questa sera molto numeroso possa essere presente e possa essere molto disponibile a sostenere la squadra durante tutto il campionato e noi questa sera continuiamo a parlare di sport state con noi restate con noi assolutamente perché ci sono tante cose da vedere su Rossini TV innanzitutto subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale quindi intorno alle 20 vi andremo a raccontare quello che sarà l'evento del prossimo fine settimana Avis Donor Week la cultura del dono tra musica e spettacolo e poi in prima serata alle 21.20 nuovo appuntamento con Amministrando che ci permette di andare a conoscere e anche ritrovare i sindaci della nostra provincia questa sera parleremo con Alessandro Piccini sindaco di Cantiano e subito dopo alle 21.45 circa vi mostriamo integralmente la presentazione della nuova squadra della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che è avvenuta appunto ieri sera in Piazza del Popolo noi ve la raccontiamo tutta quindi restate collegati con noi per vedere quanto è successo e poi domani invece vi aspetto puntuali alle 7.20 nella nostra rassegna stampa vi ricordo sempre che potete partecipare con noi mandandoci dei messaggi di foto delle fotografie oppure dei video che noi poi faremo vedere durante la rassegna stampa soprattutto avrete la possibilità tramite il numero whatsapp della nostra redazione di mandarci anche le foto ad esempio del vostro paese o della vostra città e allora grazie come sempre per esservi collegati anche questa sera sul canale 80 su Rossini TV io vi auguro una buona serata grazie a tutti